Vai via, vai! Noi dobbiamo reagire con forza per l'ennesima volta ricostruendo invece la città e ricostruendo il nostro territorio. Denigrare la nostra città, il nostro territorio, la nostra regione è veramente un gesto infame, ancora più infame se lo fa un giornalista come Giuliano Ferrara. L'unica cosa che si dovrebbe augurare di bruciare rapidamente sono i grassi in eccesso che lui ha. Abbiamo fatto il tentativo di utilizzare appunto il foglio per piegare la pizza, la classica pizza napoletana ma purtroppo ahimè non riesce neanche ad avvolgere la pizza. Sono solidale, è difficile superare il momento ma comunque si supera, è un atto vile, forse tra i più vili che un essere umano può commettere quello di appiccare un incendio. Questi incendi sospetti, questi incendi che potrebbero essere dolosi o non dolosi, sono oramai, già si sa come sono. A volte sento negli ultimi giorni delle affermazioni di persone che dicono ma sarà capitato, cose del genere non capitano. Grazie a tutti.